00 Gatto Una spy story felina dall'umorismo graffiante. La gente gatta Indy indaga su uno scandalo edilizio che la porta molto vicino alla talpa sua. Il costruttore senza scrupoli spedisce contro di lei la sua armata di ratti. Quella gatta deve essere eliminata. Indy scompare senza lasciare traccia. Si sveglia in un centro di sperimentazione sugli animali dove si testa una nuova droga per uso militare allo scopo di ottenere il soldato perfetto. Tormentato dall'ansia, il fratello di Indy si mette subito alla ricerca della gatta. Insieme a Maxime, esperto informatico, deve risolvere l'enigma di un codice segreto lasciato da Indy. Riuscirà il team a salvare la gente? E quali traffici si nascondono dietro al progetto per il grande aeroporto di Berlino? Riuscirà il team a pagare la gente con il squadra del dollar di Milano, Riuscirà il cuore la gente con un po' di un po' di un po' di l'ignore. Grazie.